Ciao a tutti e benvenuti su Gova Scream Io sono RatoX mentre oggi siamo su The Joy of Creation Reborn Ragazzi quanto lo volevate questo gioco? Me l'avete spammato veramente tantissimo Ed oggi finalmente ve lo porto Stavo aspettando che mi tornasse la voce perché Ormai so benissimo che cosa aspettarmi da questa cosa E so che urlerò tanto Per questo diciamo che volevo aspettare ancora un po' Riprendermi Così almeno in questo modo Potrete sentire meglio le mie urla E di disperazione Perché ovviamente sicuramente non sarà un'esperienza bella Vedere questo coso che mi insegue Comunque il gioco in poche parole è un Five Deaths at Freddy's Nel quale si può camminare Praticamente possiamo camminare dove vogliamo noi E già la cosa non mi piace perché comunque va dai free roaming Sì sono belli Fino al punto in cui non ti arriva questo coso a violentarti Giochiamo ragazzi Partiamo Facciamo questa cosa Vi giuro lo tocco praticamente per la prima volta questo gioco Comunque come vediamo Siamo come sempre ragazzi Chissà quale novità Siamo in una casa abbandonata Allora abbiamo una torcia che però a quanto pare non sappiamo usare Come si usa questa torcia Non sappiamo come usare una torcia Perfetto Allora Ma quanto è sfogato questo gioco madonna Oddio Che foxy Bognie Non so chi è là in mezzo Vabbè lasciamogli stare va Allora Vorrei tanto sapere come si utilizza questa torcia Perché cioè È bello utilizzare le torce Quando magari non vediamo un cavolo Non ci sono dei comandi in questo gioco E questo è un piccolo problema Allora ctrl No shift No tab No Che cavolo come si fa Vabbè Andiamo senza torcia Che ne so Vediamo Allora Oddio che cos'era Le porte automatizzate pure qua Ragazzi non mi piace questo posto Non ci vedo niente Oddio sento già dei rumori No ma non può essere già attivo questo schifoso Oddio no 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 Ma come Ma cosa Ma quando Ma perché Ma che cavolo Ma neanche ho cominciato Già mi insegue Oddio 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 Già lo sento come corre Lo sento come corre Eccolo Eccolo sta lì Sta lì Come si accende questa maledetta torcia Eccolo là Lo vedo Lo vedo Da lontano però lo vedo Allora aspettate Me ne passo Per di qua Oh ecco Oh ho imparato ad usare la torcia E' un passo avanti Oh sta lì Sta lì lo vedo Lo vedo No no questo tizio non mi piace assai Allora Oddio l'ho sentito camminare per di là L'ho sentito cambiare direzione Dove sei? Scusa freddy per favore mi potresti non uccidere Porchè Ok mi sa che non ci ha ascoltato Ragazzi non so bene che cosa bisogna fare in questo gioco Perchè boh A parte il fatto che io sono un coglione Che mi ci sono avvicinato addosso Non l'avrei dovuto fare Ok ho capito almeno come si usa la luce Adesso vediamo Possiamo vedere tipo Perchè là ci sta Bonny Che cavolo è Vedo Foxy ma Non lo so Lasciamogli là fuori Ma tipo Ma dico io What the fuck Che cosa fa Ma Eh Sono uscito dalla finestra Ma perchè tutti i bug li trovo io Ma ogni volta Ogni gioco al quale gioco ci trovo un bug Come ho fatto ad uscire dal mondo Non capisco che cos'è Se è sempre la grafica questa qua Oppure è la difficoltà del gioco Non lo so Non lo tocchiamo per ora Comunque vada Una cosa l'ho imparata Che qua dentro non ci dobbiamo andare Perchè altrimenti usciamo dal mondo Come ho fatto prima ad uscire Se adesso non mi fa più uscire Com'è possibile Come ho fatto a cadere dal mondo prima Non ne ho la più pallida idea Vabbè Allora Andiamo qua Ovviamente ragazzi qua A tutti i giochi horror I quali stiamo giocando Negli ultimi tempi A quanto pare Hanno aggiunto le porte automatizzate Perchè vedete Si chiudono tutte Vabbè No No Ci ha visti Ci ha visti Corri via Corri via Stacca 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 Che cosa devo fare ragazzi In questo gioco per vincere No 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 Ha cambiato direzione Non va bene Non va bene Allora Andiamo tipo qua Oddio no 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 Eccolo la Eccolo la Ha cambiato direzione No 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 Gira Giro tondo Casca Va bene Va bene Vuoi giocare in questo modo Freddy Vuoi giocare in questo modo Ti faccio vedere io Innanzitutto metto Very high Perchè E' bello Very high Very high Very high Non lo so Sono Faccio schifo in inglese ragazzi Allora vediamo Ma perché sono di nuovo Caduto dal mondo Allora vediamo Freddy Freddy Allora facciamo un accordo Tu non mi tocchi Io non ti tocco Dove cavolo sei Non ti vedo Vediamo qua Freddy scusi Allora Lui sta andando qua Non va bene Ma Dio Oddio Oddio Eccolo 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 Tan 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 Tarara Tata Mi sta inseguendo E non va bene Mi sta inseguendo E non va bene Mi sta inseguendo E non va bene Infatti mi ha preso Questo gioco è bastardo Scappiamo Masticavoli Se riesco a scappare Da Freddy Scapperò pure da loro No mamma mia Esci da questa porta Per favore Esci Esci Fai qualcosa Esci Non puoi andare là dentro Lo sai che morirai Quindi perché Vattene da lì E andiamo fuori magari Tanto non ti preoccupare Nel dubbio Con la torcia Gli dai un paio di botte E quelli là Non ti fissano neanche più Se ne vanno via scappando Oddio Allora A parte il fatto che qua Ci sta una sedia Che Cioè Chi è che si mette la sedia Per guardare il muro Non lo so Ma vabbè Allora Porta Apriti sesamo Ok Adesso Brava Dove stai Eccolo Sta lì a destra ragazzi Eccolo No No Mi ha sentito Ok Non devo Non devo accendere la torcia Non devo accendere la torcia Non devo accendere la torcia Ma lui sta qui Lui mi fissa Lui mi guarda Eccolo là Eccolo là Eccolo là Oddio Ma che cavolo Ma cambia direzione Ma non vale Ma sei un Cheater Schifoso Sei un cheater Madonna Non vale Ragazzi Questo qua è più furbo di noi E' molto più furbo di noi Cambia direzione A suo piacimento Adesso ho una tattica ragazzi Secondo me Per finire questo gioco Dobbiamo fare una cosa Ovvero Morire Cioè secondo me Questo qui è l'unico obiettivo Di questo gioco ragazzi L'unica cosa da fare È morire qua Perché cioè Non vedo altra soluzione Vediamo un attimo Adesso ragazzi Faccio proprio una cosa Come gli arabi Proprio alla huagbar Addosso a lui Dove sei Dove sei bastardo Freddi Freddi Vieni qua Freddi Freddi dove sei Freddi dove sei Allora Eccolo lì ragazzi Va bene Vieni qua Vieni qua Io come sempre Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Dato una zampazza Su un mi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao